Mattia vuole andare al podio. Io vi ringrazio davvero per l'invito di oggi. Non sono qui per prendere applausi, non sono qui per cercare consensi. Politica per chi? Politica per cosa? Per il Movimento 5 Stelle la politica è partecipazione e coinvolgimento dal basso. Ed è fatta proprio per essere la cassa di risonanza dei più deboli. E non delle prepotenti lobby. E non è un caso che il Movimento 5 Stelle sia nato il 4 ottobre, il giorno di San Francesco. E non è un caso la marcia di qualche mese fa a Sisi Perugia per promuovere il reddito di cittadinanza. Uno stipendio minimo per 10 milioni di italiani che vivono ancora al di sotto della soglia di povertà. Un cambio di formazione non è un sussidio, non è una forma di assistenzialismo. Ma è uno strumento per creare occupazione, per restituire la dignità a chi il lavoro è stato tolto oppure a chi l'ha perso.